I cittadini li ringrazio, li ringrazio perché sono stati 5 anni duri ma molto belli e positivi. Ho creato una splendida sinergia con loro, non dico niente di nuovo, ovviamente non mento perché loro, chi mi ascolta, sa che sto dicendo esattamente quello che è successo in questi 5 anni. Sono stati 5 anni in cui sono riuscito ad entrare in quasi tutte le abitazioni, ho fatto amicizie con tutti. Ammetto che molte famiglie, non dico che non le conoscevo, però non c'era mai stata occasione di creare sinergia, di lavorarci insieme. Ed è stato veramente un percorso molto affascinante, molto bello e direi anche estremamente positivo. Li vorrei ringraziare per come mi hanno accolto, non solo perché 5 anni fa mi hanno sostenuto e mi hanno votato. Devo essere estremamente sincero, tutti, anche quello che non l'hanno fatto, poi in questi 5 anni mi sono stati vicino, mi hanno dato consigli, mi hanno detto bravo quando meritavo che magari me lo si dicesse, mi hanno rimproverato quando era giusto rimproverarmi. Però quello che è stato bello, affascinante e quindi veramente mi emoziona dire questo è che con loro ho creato una sinergia che non me l'aspettavo. Sinceramente sono rimasto contento di ciò. Poi adesso siamo sì, in piena campagna elettorale, però direi che è una campagna elettorale che noi l'abbiamo impostata sinceramente, è sicuramente molto serena, molto soft, ovviamente noi ci presentiamo agli elettori essendo uscenti con quello che siamo riusciti a fare, noi diremo e stiamo dicendo quello che siamo riusciti a fare, quello che non siamo riusciti a fare ma che vorremmo fare. Poi devo essere sincero, lo so che tutti i sindaci a fine mandato dicono sono contento perché ho fatto tutto, ho fatto questo, tutto quello che avevo promesso e quindi adesso sono in difficoltà perché più o meno sono costretto a dire anche io che sono parzialmente o abbastanza soddisfatto e lo dico perché Pietraverano sta vivendo in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni un'evoluzione positiva incredibile a mio avviso. Noi stiamo gettando le basi, abbiamo buttato e stiamo gettando le basi per un grande futuro. Voi tenete presente che Pietraverano in questi giorni ha inaugurato una struttura, una clinica privata nel cuore del centro storico. Nelle prossime settimane uffici dell'ASL verranno delocalizzati a Pietraverano, quindi immaginate dove in tutti i paesi più o meno piccoli questo tipo di strutture vanno via perché c'è il discorso dell'accentramento e della spending review, bene Pietraverano ospiterà consultorio e non solo consultorio per tutta la vita in locale di proprietà comunale. Questo per dire quello che stiamo facendo nei sociali. Che cosa vogliamo parlare? Di sport? Allora voglio dire una cosa molto chiara, molto vera, che si tasta con mano. Cinque anni fa quando ho vinto non c'era una scuola calcio, non c'era una squadra di calcio. C'era la piscina chiusa da almeno 11 anni. In questi cinque anni, ma io direi già nel primo anno, abbiamo affiancato iniziative tese a far aprire una scuola di calcio. Per carità ognuno ha fatto il suo, ma noi abbiamo affiancato questa iniziativa. Oggi c'è un'ottima scuola calcio con una bellissima società, c'è una bella terza categoria, soprattutto c'è una piscina che funziona, anzi colgo l'occasione per ringraziare il gestore perché noi, come promisi alla RAI che mi venne a intervistare appena vinsi le elezioni, nel giro di un anno riapriremo la piscina comunale e lo abbiamo fatto. Abbiamo inaugurato un campo di calcetto e ci apprezziamo a fare una scuola di tennis. Questo per parlare di sport, vogliamo parlare di cultura. A detta di tutti abbiamo i fatti e colgo l'occasione per ringraziare, lo faccio spesso, il professor Pinangelone che ci ha affiancato in tutta l'iniziativa, ma non solo Pinangelone, il professor Renato Cifonelli e tanti altri che ci hanno aiutato. Abbiamo fatto i più eventi culturali noi in cinque anni che probabilmente dalla Seconda Guerra Mondiale a cinque anni fa. E con un'affluenza, con un pubblico sempre più numeroso e sempre più attente a queste iniziative. vogliamo parlare di qualcosa un po' più complicato, dove tutti soffrono occupazione. È vero, in un momento delicatissimo qualcuno mi dice, sento qualcuno di avversario che dice che nella zona industriale non è venuto nessun imprenditore, nessuna fabbrica che ha aperto. Mi viene quasi da sorridere perché io tra l'altro lavoro anche in banca e quindi è scondata la risposta. Tutte le aziende in Italia e in Europa stanno chiudendo. Era impensabile pensare, scusate il gioco di parole, che a Pirano venissero tutti questi imprenditori ad aprire le fabbriche. Ma ritengo che mi sono inventato, e mi fermo lì perché la gente sa a cosa mi rivolgo, mi sono inventato legalmente e lealmente tantissime iniziative per dare un po' di respiro anche economico a tantissimi giovani di Pietravairano, che sicuramente mi staranno vicino perché hanno apprezzato, me lo dimostrano secondo per secondo, mese per mese, già da qualche anno. E quindi anche sotto quel punto di vista abbiamo fatto qualcosa, ma soprattutto stiamo immessendo per il futuro, perché noi abbiamo capito e intuito, prima degli altri e sicuramente meglio degli altri, perché eravamo fermi su questo tasto, che Pietravairano può attirare tantissimi turisti, indorno ai turisti poi, fase 2, cercheremo di creare bad breakfast, giovanotti che accompagni i turisti a visitare i siti. E in questo senso non è che viene dal Cile il turista e non viene qui, non basterà qui per caso. Abbiamo avviato i contatti al rapporto con l'ente provinciale del turismo, l'ente provinciale del turismo che è affascinato dall'iniziativa nostra che stiamo cercando, e abbiamo ottenuto anche recentemente un grosso finanziamento, di portare alla luce il Teatro Tempio San Nicola. Il Teatro Tempio San Nicola che sarà oggetto di un intervento di quasi 2 milioni di euro. La gara d'appalte è in piedi tra l'altro, quindi non è un'iniziativa che si farà, ma è un'iniziativa che si sta facendo. Ci sarà una cremaliere che porterà i turisti a visitare il sito. Ma non solo il Teatro Tempio San Nicola, noi cercheremo di creare insieme ai comuni limitrofi un percorso e con la collaborazione dell'ente provinciale del turismo il discorso è avviato, ripeto, già bene, perché cercheremo di intercettare i turisti che andranno alla regge presso l'ente provinciale del turismo e li metteremo tra virgolette in difficoltà, perché l'ente provinciale del turismo segnalerà il Teatro Tempio San Nicola, segnalerà il cassello di Varano Paternolo, segnalerà il museo, il teatro di Alife. Tutto questo lo stiamo facendo in generale con gli altri comuni. Io ripeto, lo dico spesso, entro due anni, quindi non entro venti anni, entro due anni Pietra Varano diventerà un po' il fiore all'occhiello dell'Alto Casertano. Io mi rendo conto che gli avversari sono in estrema difficoltà, perché quando si amministra bene la cosa peggiore è stare all'opposizione o peggio ancora essere avversario. Che cosa dire? Parliamo del centro storico. Intanto sento dire di un video che addirittura guarderebbe il castello, questo video che poi sarebbe reso pubblico perché il castello è abbandonato, c'è il degrado. Addirittura sento dire che questo video l'ha fatto qualcuno, mi pare, io vado per quello che so, poi magari sbaglierò, chiedo scusa a tutti, però se questo video tra le cose che dice di negativo mette in evidenza anche l'abbandono del castello, la risposta è semplice. Il castello è stato venduto qualche anno fa, quando non ero io sindaco, ed è una delle pagine più vergognose della storia di Pietra Vairano, perché il castello doveva, il comune aveva un diritto di prelazione, ho parlato con la proprietà che lo voleva donare al comune, è vero che anche 20 anni fa, 30 anni fa, 40 anni fa lo si poteva fare, ma è vero che nessuno era stato così superficiale, non voglio usare altri aggettivi, ma già li hanno usati i cittadini, a farlo vendere a una società privata di Firenze, una certa incest RL, che non ci tengo niente contro, ma sicuramente non può abbandonare il castello. Tra l'altro ringrazio gli amici perché qualche volta non l'ho fatto e ne chiedo scusa, che hanno fatto in modo che ci fosse messo anche il vincolo della sovrintendenza del castello. Buongiorno a voi. Questo castello, io ho avviato contatti con la società, perché ho detto guardate non potete, tra l'altro vi è riscritto, è tutto agli atti, non potete far sì che questo castello venga abbandonato, che ci sia un erbaccio, eccetera. La proprietà è venuta e ha detto sindaco, ma voi che volete? Lo volete acquistare? Io ho preso un po' così, ho detto sì, ci faccia una proposta, la proposta parla di 550 mila euro. Bene, io voglio dire, forse si poteva fare anche di più, anche meglio, cercheremo nella fase 2, come dico io, di affrontare meglio l'argomento, cercherò di aprire un tavolo di concertazione con la società Ince SRL. Forse io ho preso troppo di petto la situazione e quindi ho rigidito la proprietà, quindi sicuramente ci sono tanti sì e tanti ma, ma io ho provato a mettere mano al castello, ma il castello è di un privato e la lista, e che vede tra l'altro tra i firmatari, tra gli sponsor, anche tantissimi elementi della vecchia amministrazione, adesso non voglio andare nel particolare, sicuramente sa bene, dovrebbe sapere, perché altrimenti non si può proporre al pubblico, se non conosce la storia vera di Pietraverano, che il castello è stato venduto quando la vecchia amministrazione non ha fatto niente per far sì che ciò non accadesse, perché poteva acquistarlo con 15-20 mila euro la vecchia amministrazione, ha preferito farlo vendere o comunque ha dormito, o comunque non ha applicato il diritto di prelazione, quindi fatto gravissimo, una delle pagine più vergognose della storia di Pietraverano, ha fatto in modo che andasse a privati di Firenze, che in questo momento stanno trascurando il castello, io cercherò e farò in modo, nella fase 2, anche perché nella prima fase qualcosa l'ho fatto, ma voglio dire anche che i primi due anni sono stato impegnato, impegnatissimo io e i miei amministratori a gestire tantissime cose e la storia di Pietraverano e tutti i cittadini sanno a che cosa mi riferisco, ma nella fase 2 spero di essere un po' più libero dai impegni improrocabili e, ripeto, aprirò un tavolo di lavoro e di concertazione con la società di Firenze per far sì che verrà messo in atto qualche azione che possa portare di nuovo in auge il castello, ma sicuramente fruibile ai visitatori e ai turisti. Se poi parliamo di abbandono del centro storico, non mi sembra, perché il centro storico non è mai vissuto negli ultimi 30 anni come sta vivendo adesso, ci sono difficoltà di parcheggio nel centro storico recentemente, perché stanno aprendo strutture pubbliche e private nel cuore del centro storico, probabilmente ci sarà anche una ricaduta occupazionale, questa non è una promessa, è la logica delle cose quando si dà vita non solo ai centri storici ma ai comuni, alle piazze e alle città, quindi a detta di tutti, e vedrete che sarà anche questo che uscirà fuori dal risultato elettorale, a detta di tutti il centro storico sta vivendo una fase eccezionale, embrionale ma già eccezionale e non so a cosa si riferiscono, forse non sono mai stati nel centro storico, prima di proporsi e prima di criticare, magari qualche volta in più a prendere un caffè nel cuore del centro storico a fare una passeggiata dovrebbero venire, se poi si riferiscono a dei lavori fatti maluccio nel pieno del centro storico, ne prendo atto, io non dico che non ho sbagliato niente alla mia amministrazione, qualche errore è stato commesso, ci stiamo ponendo rimedio, se le pietre nuove messe nel centro storico si alzano, io non è che mi vorrei discolpare, ma questo magari è colpa dell'impresa o dei tecnici, però vi assicuro che anche su questo argomento, porremo rimedio, verrà aggiustato quello che va aggiustato per eliminare anche qualche piccolo inconveniente o grande inconveniente che c'è stato, ma che stiamo dormendo o che abbiamo trascurato, noi siamo vulcanici, siamo pieni di energie, noi spacchiamo tutto, lo stiamo già facendo e lo faremo anche nei prossimi 5 anni ancora di più.